Sono 38 i comuni selezionati in tutta la campagna per essere candidati ai fondi PNRR per l'attrattività dei borghi, una misura con cui il Ministero della Cultura intende rispondere al problema dello spopolamento con progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei territori. Dopo la manifestazione di interesse indetta dalla regione Campania sono stati individuati per l'area sud di Salerno i comuni di Caselle Impittari, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Pisciotta, Pollica, Rocca Gloriosa, Sanza, San Mauro Labruca, Sessa Cilento e Torre Orsaia. Sono tutti considerati oggetto di uno spopolamento rilevante e per questo entreranno a far parte del progetto pilota che la regione presenterà al Ministero della Cultura candidandolo ai fondi PNRR. La pubblicazione dei nomi dei comuni nel Burc di lunedì ha però scatenato l'ira del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. La regione Campania, scritto su Facebook il primo cittadino, ha ufficialmente comunicato che Roscigno Vecchia non è un borgo abbandonato. Provvederemo ad installare la dovuta segnaletica per far conoscere questa scelta ai tanti visitatori che arrivano ogni anno da tutto il mondo. Per Palmieri è dunque assurdo che il borgo fantasma per eccellenza non sia stato individuato tra i comuni che parteciperanno a questa opportunità. La regione Campania tuttavia ha scelto i 38 paesi sulla base di criteri ben definiti come ad esempio la variazione percentuale di popolazione tra il 1991 e il 2000 che deve essere maggiore al 20% oppure le abitazioni vuote rispetto al numero complessivo di edifici che deve essere maggiore del 30% o la percentuale di edifici risidenziali realizzati fino al 1945, anche questa maggiore del 30%. Sulla base di questi specifici indicatori dunque Roscigno non è riuscita ad entrare. Resta l'amarezza del primo cittadino che si scaglia contro la regione. Non è il momento, ha detto Palmieri, di alimentare clientele. Se i fondi del PNRR passeranno per la regione sarà un disastro. Il governo li dia ai comuni.